L'etica del lavoro e la cultura della legalità spiegate ai più giovani. Il progetto La Giustizia adotta la scuola, promosso dalla Fondazione Vittorio Corsio. Il magistrato romano, vittima del terrorismo di estrema destra durante gli anni di piombo, è giunto alla sua terza edizione e torna nell'isola. Questa volta ad accogliere l'iniziativa all'Istituto Canopoleno di Sassari. Il tema scelto, il sequestro dei beni confiscati alla criminalità organizzata e il loro futuro utilizzo. Intorno ai 500 beni confiscati, più o meno questi sono i numeri. Ripeto, la grandissima parte di questi sono legati appunto al traffico di droga, quindi le persone che sono state condannate per questo. Ma una parte inizia ad essere confiscata per appartenenza alla criminalità organizzata. Investimenti di soggetti che in sostanza vengono da fuori e che investono sul nostro territorio. A dialogare con gli studenti, il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Sassari è la prefetta Paola Desì. I giovani devono sapere che i beni della criminalità organizzata sono sottratti alla comunità e alla comunità, perché sono frutto del malaffare, e alla comunità devono tornare. Un'iniziativa accolta con grande entusiasmo dai giovani. Credo che siano incontri fondamentali soprattutto per renderci più responsabili, più maturi, soprattutto per renderci cittadini consapevoli di ciò che accade soprattutto nel mondo e in Italia il giorno d'oggi.